Per lo straordinario impegno speso al servizio dello sviluppo dei territori rurali dei Monti Dauni di Puglia. Questa la motivazione della premiazione per il presidente di Meridauni, Alberto Casoria, nel ruolo di presidente di Assogal Puglia, svoltasi lo scorso 15 ottobre a Roma, presso la Camera dei Deputati, in occasione dell'evento che ha conferito riconoscimenti ed encomi ad una serie di personalità e realtà italiane che si sono distinte a sostegno del Made in Italy. Sono stati premiati rappresentanti delle istituzioni locali, aziende e imprenditori che si sono contraddistinti in diversi settori per innovazione, attenzione allo sviluppo dei territori e capacità di tessere reti e relazioni nazionali ed internazionali. Sono molto felice per questo riconoscimento che arriva in concomitanza dei vent'anni di attività del Gal Meridauni sul territorio dei Monti Dauni, afferma Casoria. Questo premio va all'intero mondo rurale pugliese che con onore rappresento all'interno di Assogal. La strada da percorrere per un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile delle aree rurali pugliesi è ancora lunga, ma sono sicuro che con un lavoro di condivisione di rete possiamo avere grandi risultati, conclude Casoria. L'evento ha visto la premiazione anche di Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari, e Nicola Gatta, sindaco di Candela, quali rappresentanti di amministrazioni comunali che si sono distinte per la capacità di rilanciare i propri territori. Arti agricola di Massimo Borrelli, consorzio del Nero di Troia di cui è di Matteo Cuttano, Farris SRL di Giorgio Mercuri, azienda Acqua Santa Oil di Marsella Mario, quali eccellenze italiane che hanno saputo creare qualità ed eccellenza nei settori dell'enogastronomia. Il riconoscimento conferito al presidente Casoria, in un contesto di alto profilo istituzionale come il Parlamento italiano, gli ha attribuito anche il titolo di ambasciatore dello sviluppo sostenibile ed inclusivo delle comunità rurali. Grazie a tutti.